Esagera, basta! Ora vai a farlo! Ora vai a farlo! Adesso, scudo! Vai! L'anteprima, vai! Lascici se ne dà! Vieni, non lo prendi! E' canuto! 56! Malato, non riesci! Aspettato! E' già abbiamo un buco qui! Oh, non lo prendi! 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 10 a 56! Si continua! Eh, non lo so! Eh, non lo prendi! Ecco, abbiamo! A me, se va su me spaffi! Mi dice! Ma non lo faccio, ma è bello! Quando si è andata con la stanza! E' solo quando le coni! E' un numero! Che cos'è? Oh, quanto sei nella? Oh, passo! Quando ti è andata in torino? Oh, è stato tutti! Eh, no! Eh, guarda! Adesso! Zia! E non lo prendi! E non ci vuoi! E non lo prendi! Ma allora non lo prendi! E non lo prendi! Ma non lo prendi! Un po' la città! E non lo prendi! O le due! un uomo per sbattere un uomo per bagno un uomo per bagno 46 un uccellino 35 un uomo per scornaggiare c'ho vinto si sono 85 un uomo per camera con uomo per camera 33 ha fatto 6 la tua? no, no ho mandato il 27 ha messo il trazzo e il carmone coppa d'oro, un tondaro e cosci 11 faccio la spartellone la casa ne è giuta a fare i 20 l'ho scaricciato il pazzo e il 15 53 ho 3 euro per faticare quando questo non ha 10 ci sono un anno mamma, non ho un donaccio non puoi capire e il mare di puttana la casa mamma, non puoi capire che abbiamo a masturbare qui non ho un canno ma i suoi cibi guardate a parte che abbiamo pure giù che si fanno vicino a pe 15 io lo gioco lei è lei lei è lei lei è lei lei è lei ha voluto dire qualcosa no, no, niente lei è lei mi vuole 15 zoccolato tondaro no la musica è zazza si manda si e lei è come sta schiatta ho scena ho scelto l'eserico 23 alla sorella mia 6,7 a mezza cucciocca 3 oppure pesfork 4 torino 23 e pazzeve 22 un grande culo e come è bello 39 contemporaneamente 87 e precioso e poi il mio marito 30 ma l'ha rotto 74 io sapevo già che te l'ha rotto e sfornato a Sannega 64 un progetto in terzo l'ho seco 9 la pacienza tengo 50 è lungo l'uomo quando masturba 60 ma l'ho vero si fa l'uomo 1886 ma perchè è tanto il è proprio a questo ma si è andato a pochi vedere nella ma perchè perchè non si fa così insieme si allunga e adesso me lo chiami? e adesso me lo chiami? e adesso me lo chiami? che paura non ha? e che cavolo scusa? dopo ci sono i miei 51 e ne ho uno di 8 e ne ho perso 70 è un bambino che è 24 e morto 47 e morto 47 è morto ha morto puttana ora si lavora con la bocca e con il pedillo 45, ho visto un po' ci viene da dare ho una merda, 43 e proprio mi otteniamo la gira, 18 e non lo sapevo per ora, ma non lo sapevo ho piacere il carro, 49 e non lo sapevo, ma non si parlo ho piacere il male sui, 38 e ci devono e non lo sapevo, 51 e il macchina del femmine 38 e la braccia fa 8 io con tutto fa 16 26, 60, papà, stavo 18 ore, no, ho capito le 54, si dice papi, e me, me, dovevi le 36, io ho avuto l'indulno, io ho avuto l'indulno, a tutte le tacche pure il bacche, 78, ospite la pace, 73, a fontana, 76, esco una giara, 27, mamma fa un pochino a papà, 50 ore, a capocci 34, tanta sorella buttando, ma cavoli, ma sempre uno!